Eccomi qua, questa è una specie di bonus track o di ghost track, ne avete presente nei cd. Allora, mi è venuta la voglia di riraccontarvi la storia di Chirone perché è molto emblematica, è uno dei tanti miti che riguardano i centauri ed è uno dei tanti miti che riguardano Chirone ovviamente, la mitologia greca non è univoca anche sui suoi personaggi fondamentali, ma c'è una storia molto emblematica, molto interessante che io già ho raccontato, che qualcuno di voi conosce, anche per tutto suo ovviamente, per sua conoscenza personale. E questa storia è emblematica anche rispetto a quello che abbiamo detto prima, al bambino e al saggio, no? Allora, a Chirone i centauri sono degli dèi sostanzialmente, semi dèi, metà uomini, metà cavalli, quindi legati alla terra, all'istintualità, ma nello stesso tempo degli arcieri formidabili. Anche la Rowling in Harry Potter, con la figura di Fiorenzo e dei suoi centauri, ne ha dato un'interpretazione mistica, meravigliosa, secondo me. E sono una sorta di intermediari però tra gli dèi e gli uomini e tra il mondo naturale e quello divino. Ora, sono anche dei maestri, dei maestri spirituali in antica Grecia. Chirone in particolare è il più saggio di tutti, è una sorta di re, non si capisce bene se i centauri siano repubblicani o monarchici. Immagino molto individualisti, ma nello stesso tempo che riconoscono il potere personale. Chirone è il loro leader e Chirone è il precettore, il maestro di tanti eroi nell'antichità, tra cui del mitico Eracle, Eracle è il latino Ercole, Ercules. Ora, cosa succede una sera? Che Ercole è molto giovanile, molto giovane, molto impulsivo, molto irrequieto, molto adolescente, ribelle, ha bisogno di testarsi continuamente, si ubriaca insieme ai suoi amici, agli altri studenti, ogni tanto supera il segno. Come tante persone, come tanti esseri umani, con una grande personalità, è un diamante da sgrezzare. Allora che succede? Succede che una sera i suoi amici lo sfidano, lo sfidano a duello e gli dicono, ma tu parli tanto, sei bla bla bla, sei tutto chiacchiere e distintivo, oseresti rubare l'arco e la freccia di Chirone e tirare e beccare il bersaglio lì, lontanissimo, dove ti stiamo indicando. E insomma, Ercole, Eracle, figuriamoci, sangue alla testa, fa lo sborone, fa lo sbarlafus, prende, ruba, Chirone pensando di non essere visto il suo arco, la sua freccia, ma siccome è ubriaco marcio, per errore colpisce il suo maestro che sta uscendo dal suo rifugio, al buio, e lo ferisce al polpaccio sinistro. E Chirone, invece che reagire in una maniera che sarebbe tipica di un centauro, e quindi l'irascibilità, per tutta risposta lascia Eracle, compunto, addolorato, imbarazzato, deluso, dispiaciuto, che cerca di chiedere scusa al suo maestro e si rifugia per giorni nella sua casa, nella sua tana, ok? E impara a guarirsi da questa ferita. Dovete sapere che le frecce dei centauri sono avvelenati, ma Chirone non può morire, non può morire perché è un dio. E quello che accade è che la sua freccia continuerà a sanguinare tutta la vita. Chirone non esce dalla sua tana, dal suo rifugio, dalla sua ombra, dal suo buio personale, finché non ha imparato a gestire la sua ferita. Quindi la sua ferita ogni tanto sanguinerà, ma non lo ucciderà. E questa immagine è un'immagine, è una metafora bellissima di quello che rappresenta Chirone anche nel tema zodiacale, e quello che rappresenta Chirone nella nostra vita, è quello che facciamo noi nella nostra vita. In realtà noi possiamo insegnare, tra virgolette, passare agli altri soltanto ciò che abbiamo sperimentato veramente, che abbiamo imparato a domare e di cui abbiamo imparato ad avere maestria. E il vero guerriero, il vero eroe non è colui che non ha la paura, ma che doma questa paura che la affronta. Ed esattamente questo è il messaggio. Il nostro maestro interiore è anche laddove abbiamo la nostra ferita. E laddove abbiamo la nostra ferita possiamo imparare a curarla e di conseguenza passarla ad altri per esperienza, e perché ne abbiamo imparato appunto la maestria. Secondo la leggenda, questa è una delle cose che poi convince Eracle che è diventato il discepolo più dotato e più importante, che egli è un semidio, porterà Ercole a fare la sua ricerca, che lo porterà alle sue famose dodici fatiche che hanno a che fare poi con i segni zodiacali. Questa storia ve la volevo riraccontare perché è esattamente quello che in questo momento possiamo attivare dentro di noi. Imparare a stare con la nostra ferita, perché imparare a fare in modo che la nostra ferita sanguini ma non ci uccida, sanguini ma non ci debiliti, ci permette di fare dei salti quantici enormi. Ok, buonanotte, spero abbiate gradito il bonus track.